Buongiorno, benvenuti. Io mi chiamo Emanuele Pellegrini e sono professore di storia dell'arte qui a IMT Lucca. IMT, lo sapete, è una scuola di dottorato pubblica. Il dottorato è quel corso di tre o quattro anni che si fa dopo la laurea, una volta laureati, è il grado più alto dell'insegnamento universitario ed è un titolo internazionale che c'è in tutti i paesi. Io apro, introduco questa mattina, questo è il primo di una serie di incontri che l'IMT ha organizzato in collaborazione con le scuole e introducendo questo incontro, questo primo incontro che faremo stamattina, volevo ringraziare particolarmente tutto l'ufficio scolastico per l'organizzazione e la collaborazione, tutti gli insegnanti e tutti voi che siete qui che hanno permesso questo incontro e lascio la parola alla professoressa Buonriposi per un saluto introduttivo e poi cominceremo la lezione. Grazie professor Pellegrini, buongiorno a tutti ragazzi, siete tantissimi, è bello vedervi qua tutti insieme in questo bellissimo posto, siccome parliamo di beni culturali ci siamo dentro, immersi proprio a 360 gradi in questo luogo che è stato recuperato qualche anno fa perché la chiesa ormai era in disuso e sta diventando ed è diventato un centro congresso importante per tutta la città. Quindi vedete come beni culturali, tecnologie si uniscono, quindi sarà un argomento per voi importante questo, fondamentale perché siete già esperti in tecnologie, lo sappiamo, molti sono anche più bravi di noi sicuramente e i beni culturali dovete immaginarli e pensarli non solo come un grande patrimonio che va tutelato e difeso e quindi una difesa dell'ambiente a 360 gradi ma è anche un importante contenitore perché domani voi possiate andare a svolgere le vostre professioni perché quando parliamo di beni culturali parliamo ovviamente di cultura e di tante professionalità che ruotano intorno a questo settore. Quindi per voi sarà un momento importante, siamo contenti e ringraziamo naturalmente gli MTI che pensate insomma è una scuola di alta formazione quindi parliamo dopo, siamo dopo l'università, siamo quindi a livelli già elevati e per la città di Lucca è una risorsa importante perché al suo interno ci sono tante competenze, tante professionalità e siamo contenti noi della scuola, diciamo dalla primaria fino alla superiore che queste potenzialità ci vengano messe a disposizione. Quindi avrete modo di ascoltare professori, docenti di alto livello che affronteranno argomenti appunto di fondamentale importanza. Poi bisogna ringraziare oltre che voi che siete qua questa mattina anche i vostri insegnanti e lo diciamo, lo ripetiamo sempre. Vedete oggi si parla della figura del cosiddetto navigator, no? Ne avete sentito parlare? Sì, perché colpisce un po' come termine, come definizione. Pensate però che i veri navigator sono i vostri docenti perché alla fine sono loro che vi orientano, che vi guidano in determinate scelte all'interno della scuola, fuori della scuola e poi anche nel mondo del lavoro perché tutto l'aspetto legato all'alternanza scuola-lavoro deve essere fatto bene, non va buttato via perché in alcune situazioni non ha funzionato. No, assolutamente, l'alternanza scuola-lavoro è un momento importante, fondamentale ed è un grande strumento che è in mano proprio a voi e ai vostri insegnanti. Quindi, insomma, come dire che alla fine la scuola la fanno proprio i vostri docenti. A Lucca tutto sommato siamo contenti perché le nostre scuole, con le difficoltà che hanno, qualcuno di voi è stato spostato recentemente, vive, deve fare scuola nei cosiddetti container, ma la scuola va avanti e questo ha dimostrazione che abbiamo delle belle, eccellenti professionalità. Quindi, grazie a tutti i docenti che sono qua questa mattina, speriamo che il lavoro sia proficuo e grazie ancora agli MT, ringraziamo anche la Fondazione Cassa di Risparmio che ha non solo ristrutturato questo bellissimo luogo restituendolo alla città, ma che, insomma, ospita spesso e volentieri le nostre scuole per iniziative di questo tipo. Quindi, non perdete questa occasione, cercate di seguire, di resistere alla tentazione di utilizzare sempre i vostri cellulari perché davvero sono occasioni formative, occasioni importanti da non buttare. Grazie e quindi buon lavoro, buona giornata. Allora, buongiorno. Diciamo, se uno mette insieme due parole, patrimonio, culturale, nuove tecnologie, io non so che idea vi siete fatti voi, forse vi aspetterete che vi faccia vedere la ricostruzione del Colosseo, Assassin's Creed, il lavoro che c'è dietro per ricostruire giochi a Playstation o cose del genere, ricostruzioni mirabolanti di città esistenti, per esempio Venezia. In realtà non farò niente di tutto questo, anzi l'opposto. Prendete questo incontro quasi come uno sgambetto, come se vi facessi uno sgambetto rispetto a quella che è la credenza comune, l'uso comune delle nuove tecnologie rispetto al patrimonio culturale. Cioè stamattina, stamattina, cominceremo a parlare, a riflettere su quelli che sono i problemi delle nuove tecnologie, in primis cellulari, rispetto a quello che vedete qui in questa chiesa, alle cose, alle cose. Marmo, pietre, pittura e quello che invece è tecnologia, video. D'accordo? Allora, cominciamo forse da quella che è una delle opere più famose del mondo. Io ci ho avuto la fortuna qualche anno fa, sono stato un mese, sono stato invitato per un mese da un'università cinese. Ho fatto lezioni a questa università cinese, stare un mese in Cina è come stare sulla luna, è proprio un altro ambiente, un altro alfabeto, altri modi di vita, non c'è la domenica, è proprio tutto diverso. Facevo lezioni, a un certo punto parlavo del Davide Michelangelo che tutti voi conoscete, che tutti voi avete visto, magari li avete visti tutti e due. Perché uno è in Piazza della Signoria, uno invece è quello vero, quello originale di Michelangelo all'Accademia. Una studentessa mi si è avvicinata, mi ha detto, ah, dice il professore, grazie, ho capito il Davide, perché la prima volta che l'ho visto, ho detto, guarda, questo signore che è appena uscito dalla doccia. In effetti, questa è una persona nuda che tiene una specie, quasi una specie d'asciugamano sulla cosa. Lì per lì viene da ridere, in realtà, se uno vi fa vedere un'opera d'arte cinese dell'Oceania o di un'altra cultura, è probabile che voi commettiate, diciate una sciocchezza di questo genere. Ma il fatto è, invece, molto più interessante, perché se voi provate, non ora perché siamo troppi, ma se mettete, digitate David di Michelangelo su Google, quello che vi viene fuori è un oceano di immagini. Un oceano di immagini. Appunto, la tecnologia, se voi siete a sedere in questo momento a Tokyo o a Buenos Aires, potete tranquillamente vedere il David di Michelangelo, ma in questo modo qui, però. Io vi ho messo, vedete, la freccettina blu. Questa è una ricerca stupida, è fatta su Google Immagini. La prima immagine, diciamo, dopo, quante ne saranno, una quindicina, la prima che vi può far sorgere qualche problema, se ci riflettete, perché vedete che è un po' diverso da quello lassù, perché si vede che c'è uno sfondo completamente diverso. Se continuate, ancora, c'è un David che è all'interno e un David che è, invece, collocato all'esterno. Fino a che non cominciano a venire fuori altri David di altri artisti, Donatello, Bernini. Quello che vi voglio dire è che, effettivamente, è facilissimo documentarsi tramite le nuove tecnologie, cioè la rete, reperire informazioni e vedere il David di Michelangelo. Ma quello che è rischioso oggi è che voi avete un milione di David di Michelangelo, tutti diversi, e soprattutto perdete il contatto con l'originale, con il David di Michelangelo, che è un'opera che pesa un paio di tonnellate, che è alta 5 metri, che Michelangelo ha fatto da giovane, 25enne, a Firenze, e che si trova dentro la Galleria dell'Accademia di Firenze, e ha svariate copie nel mondo, tra cui una, quella più famosa, in Piazza della Signoria a Firenze. Ma su questo ci torneremo dopo. Questo è un po' il tema generale, perché se fate banalmente un'altra ricerca con un'altra opera famosa, sempre di Michelangelo, il Tondo Doni, questo è quello che vi viene fuori facendo la ricerca su internet. Avete tutto, tutto quello di cui avete bisogno a disposizione con un click, ma non capite però quali sono i rapporti tra tutte queste immagini e fra queste immagini qui ci potrebbero, per esempio, essere copie di pittori del Novecento, ci potrebbero essere falsi, ci potrebbero essere riproduzioni fatte su calcina, tutto quello che vi pare, tutto tranne che il Tondo Doni di Michelangelo. Perché è un problema, possono essere un problema le nuove tecnologie e allo stesso tempo ci possono venire in aiuto. Entriamo nel vivo di questa lezione. Voi capite bene che una situazione media degli uffizi, non so quanti di voi sono stati agli uffizi, penso la maggioranza, diciamo, io personalmente ci sono stato pochissime volte, sono uno storico dell'arte, perché sapete che frequentemente, anche con la prenotazione dei biglietti, questa è una situazione, diciamo, media. C'è una lunga attesa e soprattutto quando centrate dentro agli uffizi ci sono tantissime persone, quindi non è una situazione come potrebbe essere questa chiesa che vi mettete da soli davanti a Caravaggio e guardate Caravaggio. Ci sono tante persone, ci sono gruppi, c'è rumore, c'è una grande ressa. Di conseguenza la nuova tecnologia e numerosi progetti a cui hanno lavorato tante persone con tanti soldi hanno creato questo tipo di strumento, uffizi touch. Cioè voi, seduti comodamente a casa vostra, davanti al vostro computer, potete, come c'è scritto qui, l'intero patrimonio artistico della Galleria degli Uffizi. Qua dentro, dentro il vostro cellulare, voi potete avere tutta la Galleria degli Uffizi e, naturalmente, si tratta di riproduzioni delle opere. Se voi visitate questo sito, effettivamente si gioca sul fatto che entra agli uffizi quando vuoi. Non ci sono problemi di code, non dovete pagare il biglietto, non c'è problemi di ressa. Potete fare quello che volete. Volete vedere la Venere di Botticelli, volete vedere Leonardo, volete vedere Caravaggio, volete vedere il Tondodoni di Michelangelo. Ci avete tutto a portata di clic sul computer. Quindi, vedete che si presenta in questo modo. E di questi, questo tipo di strumento, ce ne sono, ne stanno fiorendo sempre di più e non soltanto agli uffizi, anche per altri musei. Anche perché, appunto, le nuove tecnologie, oggi, ci permettono di avere una resa impressionante delle opere d'arte. Le vedete meglio che dal vivo. Le vedete più nel dettaglio che dal vivo. Capite quanto è rischiosa questa cosa? Perché se io la vedo meglio sul computer, chiaramente il mio rapporto con l'originale, con quello vero, cambia radicalmente. Ecco perché hanno avuto un sacco di successo mostre di questo tipo qui. Questa è una mostra che è stata fatta recentemente alla fabbrica del vapore del Milano. Si chiama Uffizi Virtual Experience. Naturalmente, dietro queste operazioni culturali ci sono fior di tecnologi che ci hanno lavorato, ci sono tanti soldi che sono stati spesi, banalmente anche per pagare i diritti per la riproduzione delle opere. Osservate bene. Tutte quelle che vedete sono opere degli uffizi. È una fabbrica, la fabbrica del valore a Milano, è una fabbrica dismessa che è stata recuperata per fare queste esposizioni virtuali. Guardate queste foto. Naturalmente, è un po' complicato perché siamo tanti, ma se ci sono domande alzate la mano che mi fa altro che piacere perché più si parla se avete qualche dubbio o qualche meglio, qualche commento, siete più che benvenuti. Le persone sono piccole. Voi avete gigantesche riproduzioni, gigantesche, luminosissime riproduzioni di Giotto, di Duccio da Buoninsegna, di Simone Martini. Ci camminate dentro. Avete una situazione di osservazione che è perfetta. Siete da soli, siete al buio, come se foste al cinema. Le opere sono illuminate, diventano quasi magiche. È per quello che si chiama virtual experience. Perché voi ci camminate dentro, passate dentro Andrea del Castagno, vi sembra quasi di toccarle. Sono cose geniali sui contrafforti, sulle colonne, sono state proiettate in riproduzione. In realtà, le opere di Andrea del Castagno, questa qui è una, però è stata presentata in più modelli, Andrea del Sarto, Parmigianino, insomma, tutto, ho visto degli esempi, fino, ovviamente, ovviamente a quelli che sono i capolavori indiscussi della Galleria degli Uffizi, la Venere e la Primavera. D'accordo? Voi ho detto che non è il solo, anzi, se devo essere sincero, questa è una tendenza che va ad aumentare, proprio anche per il successo straordinario di pubblico, queste virtual experience sono state fatte con Van Gogh, con Caravaggio, poi ve le farò vedere. E allora vedete che ci sono una serie di utilizzo di nuove tecnologie proprio per entrare dentro i capolavori. Questo qui si chiama alta definizione, sono scanner accuratissimi che sono stati applicati alle opere d'arte per guardare nell'occhio, negli occhi, la Venere di Botticelli. Guardare negli occhi la Venere di Botticelli, in questo caso, ragazzi, non è uno scherzo, è la verità. Perché attraverso uno scanner precisissimo siamo riusciti? Voi potete, immaginate naturalmente sullo schermo di un cellulare la vedete piccola, ma se avete uno schermo grande oppure se siete capaci ad esempio di utilizzare la televisione, voi riuscite veramente a vedere negli occhi la Venere di Botticelli. È suggestivo, è molto suggestivo, ma purtroppo non c'entra nulla con quello che accade realmente dentro il museo. Perché è questa la situazione della Galleria degli Uffizi. C'avete un lucernario che fa venire la luce dall'alto, c'avete una ringhiera che vi tiene lontano dall'opera, c'avete l'opera che non è illuminata, anzi, vi accorgete che è fatta sul legno, sapete che come si facevano colori, si facevano con le uova, la tempra era fatta a uovo, si usava la colla con la pelle di coniglio, tutti i materiali concreti. E questa è una situazione, diciamo, questi sono gli Uffizi nel vecchio allestimento col cartellino, avete altre opere di Botticelli, questo è nel nuovo allestimento, e se vi va bene è una situazione di questo tipo, se vi va male e vi va male, la situazione della venera di Botticelli è così, o della primavera, insomma, che volete che sia, oppure così. Tra l'altro ho portato anche questo genio che ha fatto una foto alla foto del quadro. Noi abbiamo avuto una ragazza del Kazakistan, noi sapete che abbiamo studenti da tutto il mondo, li selezioniamo da tutto il mondo, abbiamo avuto domande da tutto il mondo, abbiamo avuto una studentessa del Kazakistan che è stata selezionata per beni culturali, che parlando mi ha detto, dice io professore, ci sono stato agli uffizi, ho avuto un senso di grandissima delusione, di noia, perché ovviamente lei aveva visto gli uffizi attraverso gli uffizi touch, questo discovery, questa virtual experience, lei aveva visto dettagli di Leonardo da Vinci grossi così, quando si è trovata di fronte a Leonardo da Vinci che tutto il quadro era grosso così, ovviamente ci è rimasta male. Questo che io voglio dirvi ora è che naturalmente pensate un po' alle straordinarie osservazioni che si possono fare anche da parte degli specialisti quando vi trovate di fronte a un dettaglio così, cioè potete vedere veramente il pennello di Botticelli, potete veramente i Botticelli o magari qualche chi l'ha ritoccato l'ha ripassato, però quando vi trovate di fronte all'opera vera purtroppo non si vede così e magari non era nemmeno fatto per essere visto così, ma dov'era la Venere di Botticelli, la primavera? Noi non siamo sicuri, se abbiamo un documento del 1499 che ci dice che stava sopra un lettuccio della camera del fratello di Lorenzo il Magnifico, un lettuccio probabilmente è un divano, ma non sono opere fatte per essere viste dal vicino, per essere fatte per essere viste con questi dettagli enormi, anzi, sono opere fatte per essere viste da una certa distanza. Gli originali, perché è complicato, le opere d'arte sono così complicate e guardare è così difficile. C'è un libro famoso del 33 che si chiama Saper vedere, perché voi potete allargare, storgere, illuminare, ma l'originale vi indica tutta un'altra cosa. era fatto per essere visto da lontano, era fatto per essere visto secondo una determinata angolazione, in un determinato contesto che ovviamente il museo snatura, ma lasciamo perdere questo discorso. Allora, voi mi direte, ma allora questi tipi di tecnologie sono sbagliate? No, io sto dicendo un'altra cosa ed è badate che è una discussione che sta avvenendo fuori ora e probabilmente sarete voi quelli che dovranno guidare questo tipo di problema. sta avvenendo fuori ora perché ci stiamo accorgendo che questa onda di immagini, di dettagli, questo uso attraverso le nuove tecnologie rischia di far sparire l'originale, la cosa e il suo ruolo. E ci sono sì opere che sono fatte per essere viste da vicino, va bene? Allora, se vi faccio vedere queste opere di Antonio del Pollaiolo, vedete, sono opere del 1470 che erano sempre fatte sempre per la famiglia Medici, probabilmente, erano un palazzo vecchio, sono storie di Ercole, vedete? Come ve le immaginate? Non so se qualcuno l'ha vista, ma uno se le vede così se le immagina enormi. Infatti sono così. Questa è una fossa importante che vedete qui, questo signore qui che si chiama Rodolfo Siviero, lo chiamo, questo signore qua, lo chiamano il detective delle arti. Queste due opere erano state trafugate dai nazisti nel 1943 e sono state recuperate nel 1963 a Pasadena, negli Stati Uniti. Erano finite in una collezione tedesca e attraverso una serie di giri diplomatici lo Stato italiano è riuscito a recuperarle, ma soltanto nel 1963 e oggi sono agli uffizi. Questa foto è anche significativa perché vi vedete immediatamente come sono queste opere. Sono piccole così. Probabilmente nel Palazzo Medici c'erano delle riproduzioni grandi, aveva fatto il Polaiolo, ma queste erano tenute in una specie di libretto. Queste sì che sono fatte per essere viste da vicino, queste sì che sono fatte per andare a esplorare dettagli fini, fino nel minimo nel minimo millimetro. In questo caso sì che può aver senso allargare un dettaglio che ovviamente non vi restituisce l'originale, ma l'originale stesso, siccome è piccolino così, vi chiama ad avvicinarsi, vi invita ad andare vicino. Vi viene in mente nulla se vi faccio vedere questo dettaglio qui? No, forse no. Però magari un riferimento a fiumi e dettagli di questo tipo vi dimostra poi la connessione con altre opere che appunto invitano a una visione ravvicinata. D'accordo? Quindi questo è il primo problema, originali e virtuale. Non vi scordate mai che l'originale è quello che vedete alle pareti della Chiesa e quello, il risultato che la nuova tecnologia vi dà è qualcosa che vi può aiutare a vedere l'originale, ma può anche falsare incredibilmente l'originale. Quindi è sempre meglio visitare, rendersi conto dal vero di cosa si tratta. Infatti gli esempi di questo tipo ce ne sono tanti. Questa è una delle icone del Rinascimento italiano che forse conoscete, la rappresentazione del Duca d'Urbino Federico da Montefeltro. Sapete, recentemente è stato scoperto che era addirittura dietro la congiura dei pazzi, cioè quello che voleva uccidere Lorenzo il Magnifico attraverso una serie di giallo internazionale che ci fu nella Firenze della seconda metà del 400 che vedete appunto agli uffizi oggi sistemato nella collocazione originale e che appunto consente una visione ravvicinata girare intorno perché è dipinto su due lati. Io vi ho fatto degli esempi che riguardano il Rinascimento fiorentino ma vi posso fare altrettanti esempi di opere altrettanto famose e altrettanto note in tutto il mondo Klimt. Questa è un'altra Klimt Experience Klimt Vittuer Experience guardate le persone ma voi immaginatevi essere davanti a un Klimt grosso come questa chiesa illuminato e poi vi ritrovate davanti al Klimt vero che è così questa è una cosa che io non ho provato perché anche se sono più vecchio di voi ma insomma non ci avevo questi strumenti io me lo ricordo bene lo stupore che ho provato davanti a opere originali che avevo visto in fotografia ma un conto è vederle in una fotografia un conto è vederle in queste condizioni le persone sono anche lì ci avete domande io non so se volete o commenti c'è il microfono se volete ora capisco magari l'imbarazzo comunque tranquilli tanto mi immagino va bene naturalmente c'è qualcuno che ha usato bene questo tipo di strumentazione questo tipo di capacità delle nuove tecnologie di trasformare un'opera anche se celebre ma piccola come questa in una grande esperienza dopo gli uffizi experience climate experience van gogh experience ovviamente non poteva mancare la caravaggio experience queste sono le citroniere cioè il luogo dove venivano tenuti i limoni alla venaria reale che era una villa intorno di torino della corte savoia oggi è un famoso centro per il restauro e l'arte contemporanea questa è una mostra del 2017 addirittura qui l'opera di caravaggio che è la conversione di san paolo ce l'avete addirittura sul pavimento cioè ci camminate dentro camminate dentro l'opera di caravaggio perché c'è il cavallo e poi in terra ci avete dei dettagli l'opera in questione è questa ed è appunto la conversione di san paolo che oggi è conservata nella chiesa di santa maria del popolo a roma qui allora se chiudete la porta di questa cappella voi siete nel 1601 a parte qualche c'è una tomba che è posteriore ma questa cappella conserva integralmente il patrimonio culturale del momento stesso in cui è stata eseguita è rimasta intatta sono 400 e passa anni che questa cappella è così addirittura c'è un grido cioè una una specie di lancio come oggi c'è su si trova sul bollettino della nazione del tirreno che si vede tutte le mattine quando si passa di roma del 1601 che dice guardate la cappella di tiberio cerasi cioè questo signore che era il committente cioè quello che aveva pagato per avere i quadri è in via di completamento ci sono dei quadri stupendi di Caravaggio che sono questi dalle parti uno e due e di Annibale Carracci Annibale Carracci poverino oggi è molto meno noto in realtà nel 1601 dire di mettere insieme in una cappella Caravaggio e Carracci è come dire oggi di mettere insieme Diamenirst e non lo so Kentridge o Picasso e Matisse cioè i massimi artisti possibili immaginabili in quel momento allora io vi faccio riflettere su una cosa guardate bene a proposito di vedere voi entrate nella cappella questo è a sinistra il movimento della croce di Caravaggio vi manda verso la Madonna fate questo movimento qui con l'occhio e riuscite col corpo di San Paolo sdraiato in terra è una cosa che potete agevolmente fare oggi entrando dentro Santa Maria del Popolo che fra l'altro è quasi sempre aperta e ci sono poche persone naturalmente non è soltanto le pareti laterali gli allievi cioè gli scolari gli allievi di Annibale Carracci avevano affrescato anche tutto il soffitto tutt'ora intatto ci avevano fatto gli stucchi praticamente voi ci avete uno scrigno del 1601 se volete girare un film ripeto ambientato nel 1601 lo potete fare qui dentro senza spostare una virgola in questo caso appunto proprio guardando le opere di Caravaggio che se ve le faccio vedere così ovviamente sono totalmente decontestualizzate non capite nella Caravaggio Experience è stata fatta un'esperienza più intelligente completamente diversa vedete che hanno ricreato le cappelle proprio perché è sbagliato è sbagliato farvi camminare dentro un Caravaggio perché voi dentro Caravaggio non ci camminate e Caravaggio non ha pensato il quadro per camminarci dentro l'ha pensato per stare in un altare a colloquio con l'opera davanti a colloquio con l'opera del suo nemico amico rivale Annibale Carracci allora nel Caravaggio Experience che è stato fatto a Torino a Venaria Reale sono state ricreate tutto col computer è tutto proiettato ovviamente sono tutte proiezioni sono state ricreate le cappelle di Caravaggio vedete che hanno ricreato quasi integralmente la cappella di Santa Maria del Popolo e l'altra San Luigi dei Francesi e poi quella del Vaticano dove sono conservati i capolavori di Caravaggio in questo caso vedete a grandezza naturale in questo caso vedete che le nuove tecnologie in un certo senso si sono spostate in maniera corretta verso perché uno dice io non posso andare a Roma ricreo la cappella di Caravaggio anche se non è vera finta è fatta come una fotografia però diciamo il senso riesco a ricostruirlo come dovrebbe essere anche perché lo sapete le opere d'arte che sono dentro musei tipo questa hanno una storia lunga di 400 anni questa è la famosa Medusa di Caravaggio ma lo sapete come era messa la Medusa di Caravaggio che è sempre stata agli uffizi è 400 anni che è agli uffizi era un dono che un cardinale milanese aveva fatto al Granduca di Toscana siamo alla fine del Cinquecento gliel'aveva donato è uno scudo se voi vedete un'immagine potete vedere nel minimo dettaglio non ci capite nulla è su cuoio è uno scudo vero è oblungo è tondo il Granduca di Toscana l'aveva messo su un cavallo finto e con un cavaliere finto nel mezzo al corridoio degli uffizi c'era un cavallo finto e un cavaliere finto che teneva al braccio destro lo scudo con la testa di Medusa questo lo sappiamo dagli inventari dalle descrizioni naturalmente oggi quando voi andate a vedere la Medusa agli uffizi è appoggiata alla parete come se fosse un quadro e non è che è pensabile rimettere un cavallo dentro gli uffizi ma questo vi fa capire che dietro ogni opera c'è una storia particolare una storia di visione e che voi potete trovare anche 57 miliardi di immagini sul tablet e sul computer ma non vi danno mai giustizia di quello che è l'originale e non vi danno mai giustizia della storia che sta dietro l'originale allora come vi ho detto c'è un un crinale difficile perché non è che tutto quello che fa la nuova tecnologia è necessariamente migliorativo non è che tutto quello che viene fatto necessariamente porta un beneficio anzi bisogna stare attenti che come si usano nuove tecnologie ripostiamoci a Venezia non so se voi siete mai stati penso di sì questo questo è l'isola di San Giorgio Maggiore se andate a Venezia dovete prendere il traghetto per andare sull'isola è un posto diciamo uno dei posti più calmanti quasi da yoga che c'è che si conserva fra tanto patrimonio culturale italiano è un bellissimo convento che era stato costruito siamo alla metà del Cinquecento da uno dei massimi artisti architetti del Cinquecento italiano Andrea Palladio Palladio costruisce questo bellissimo convento poi lo chiamano a costruire la facciata della chiesa che vedete oggi e questo convento come tanti conventi italiani tipo questo ha subito una sorte naturalmente frati non ci sono più sono andati via è rimasto vuoto ed è stato trasformato da uno degli architetti di grido italiani emergenti oggi che si chiama Michele De Lucchi nel 2005 un lavoro di cinque anni dal 2005 al 2010 è stato trasformato in una delle biblioteche di storia dell'arte più importanti d'Italia che è la biblioteca Cini e ci ha poi sistemato anche la fondazione Cini che è un centro di cultura su quest'isola davanti a Venezia d'accordo in quest'isola è successa una delle cose più straordinarie per quello che riguarda il patrimonio culturale le nuove tecnologie degli ultimi anni ora cercherò di raccontarvela nel dettaglio perché è una storia che ha naturalmente suscitato tantissimi dibattiti e che porterà tuttora a farci dibattere come sapete in tutti i conventi compreso questo c'era un refettorio che era il luogo dove i frati mangiavano di solito nel luogo dove i frati mangiavano c'era la rappresentazione di una cena dell'ultima cena delle nozze di Cana il cenacolo di Leonardo per esempio è un caso di refettorio con la rappresentazione dell'ultima cena questa è una stampa del 1700 proprio vedete il momento in cui i monaci stanno mangiando dentro il refettorio di San Giorgio Maggiore a Venezia d'accordo? c'è chi serve c'è il canino mancabile ci sono naturalmente i monaci che contano di più nei seggi d'onore sono tutti intorno al momento del pasto vedete che c'è una rappresentazione di una di un banchetto nel quadro laggiù in fondo questo banchetto è un quadro straordinario lungo più di tre metri di Paolo Veronese che è questo importante artista veneziano del 500 il quadro come vedete oggi non c'è più è arrivato Napoleone alla fine del 700 e naturalmente ha preso tante opere d'arte che erano in Italia non la Gioconda non la Gioconda che la Gioconda ce l'ha portata Leonardo in Francia ma Napoleone ha preso tante opere d'arte italiane e le ha portate al Louvre qualcuna ce la siamo ripresa grazie a Antonio Canova questo scultore che nell'Ottocento ha ripreso tante opere d'arte dal Louvre qualcuna c'è rimasta questa c'è rimasta naturalmente se vi dico che questa c'è rimasta significa che a San Giorgio Maggiore a Venezia c'è un buco giusto? il refettorio dei monaci oggi è senza opera le truppe napoleoniche la presero la rotolarono la caricarono sulla carovana delle opere d'arte che da Venezia andava a Parigi e la portarono al Louvre dove oggi si trova è un quadro stupendo addirittura c'è la rappresentazione dei tre maggiori artisti veneziani che suonano Paolo Veronese Tintoretto e Tiziano che vedete lì in primo piano col vestito rosso che sta suonando una specie di contrabbasso e naturalmente è un quadro di grande importanza tant'è vero che a Louvre occupa uno spazio importante e le persone si fermano a guardarlo l'unico problema è che il Veronese ha avuto la grossa sfortuna di essere nella solita stanza della Gioconda questa è una bellissima foto non della Gioconda ma di chi sta guardando la Gioconda vi ho messo la freccia perché naturalmente oltre a tutti i quadri che sono sui lati il Veronese è là giù in fondo allora ora vi faccio vedere una foto del refettorio di San Giorgio Maggiore oggi ce lo siamo ripreso non ce lo siamo ripreso e allora è stata fatta una copia ma questa non è una copia normale questa è una copia molto particolare una copia fatta usando le nuove tecnologie allora immaginatevi il refettorio di San Giorgio Maggiore a Venezia senza quel dipinto lì lo vedete che la struttura si sta parlando di palladio cioè uno dei geni dell'architettura del Rinascimento vedete che la scatola della struttura l'edificio dove mangiavano monaci prosegue dentro il dipinto praticamente è come se voi sfondate un muro se togliete quel quadro lì è come se voi sfondate un muro di una casa e non è che ci potete fare un'altra cosa quel quadro lì è fatto per stare lì è fatto per stare insieme all'architettura è fatto per stare insieme a San Giorgio Maggiore al chiostro all'atmosfera che c'è nel chiostro che è non c'è nessuno appunto vi dicevo un'atmosfera molto calma molto isolata quando hanno cominciato a rifare la biblioteca di San Giorgio Maggiore a restaurare il chiostro hanno deciso di rifare anche la copia del veronese nel 2007 solo che non hanno detto perché una copia magari uno può fare può chiamare che fate è chiamato un pittore ha fatto una fotografia digitale gigantesca è stata fatta un'operazione scientifica molto più sottile hanno chiamato questo signore qui che è un inglese che si chiama Adam Lowe che fra l'altro verrà anche qua in IMT in primavera lo vedete che queste foto sono significative perché non è che è un signore che è seduto con un laboratorio con mille computer no questo sembra un imbianchino e in effetti questo è il suo studio a Barcellona la sua ditta si chiama Factum Arte è famosa in tutto il mondo ora ci lavorano centinaia di persone proprio per il lavoro che svolge informatici storici dell'arte esperti della visione e poi comunicazione eccetera eccetera appunto lui è inglese lo studio a Barcellona ma ha sedi in varie parti del mondo ha realizzato diverse copie di opere d'arte i due grandi i due grandi cavalieri di Nimrud a Ninive che si trovano al British Museum lo vedete lassù il cenacolo di Leonardo Factum Arte appunto questo potete andare sul sito lo trovate c'è la spiegazione dice che è una ditta che lavora con utilizzando le nuove tecnologie per cercare di riprodurre gli originali e che ha fatto rispetto al veronese hanno messo appunto uno scanner speciale uno scanner di dettaglio e hanno scansionato totalmente il veronese del Louvre questo significa lavorare di notte Adam Lowe ci ho parlato diverse volte ma ha raccontato che ovviamente non era possibile mettere tutte queste impalcature durante il giorno nella sala della Gioconda quando al Louvre ci sono 10 milioni di persone né era possibile spostare il veronese da un'altra parte e lasciare un buco nel museo quindi di notte con la sua equip ogni volta montavano queste strutture e scansionavano pezzo per pezzo il veronese scansione di dettaglio ma hanno fatto di più perché come sapete le opere d'arte non sono come sono uscite dal pennello dell'artista a volte sono state ritoccate a volte sono state restaurate se sono strappate sono state ricuscite sono state reinventate quindi loro hanno anche ricercato di ricostruire cioè togliere quelli che erano i restauri ottocenteschi lo sa sporcizia le puliture e hanno fatto un lavoro meticoloso di ricostruzione utilizzando colori pennelli tempere un mix praticamente di lavoro artigianale e lavoro di nuove tecnologie che è un po' il futuro poi in sostanza quello che sto cercando di dirvi stamani sofisticatissime tecnologie e lavoro di mano tant'è vero che poi alla fine hanno rimontato ma sono naturalmente cioè chiariamoci sono cose da milioni di euro queste sono operazioni da milioni di euro ci vuole un mecenate ci vuole qualcuno che finanzi ci vuole qualcuno che sostenga ci vogliono anni di lavoro alla fine rimontato e si può tornare all'inizio il nostro veronese è qui e che è successo è successo che qualcuno anche qualche storico dell'arte parecchio importante ha detto ma dove sarà meglio vedere il veronese nella ressa del Louvre quello vero o quello finto nel contesto originale è meglio vedersi la copia dentro l'architettura di Palladio da soli oppure l'originale nella sala della Gioconda del Louvre questa è una domanda che non ha risposta ma pensateci anche perché il lavoro che viene svolto è un lavoro appunto d'artigianato fra l'altro guardate Louvre mi ha raccontato che la copia che lui ha fatto del cenacolo di Leonardo è stata fatta perché non avevano dato forse l'avrete sentito il permesso a Peter Greenway che è questo famoso regista di fare un film dentro il cenacolo di Leonardo allora siccome il film doveva essere realizzato hanno chiesto a Adam Love di fare la copia del cenacolo di Leonardo così Greenway poteva fare il film la copia del cenacolo di Leonardo di Love è diventata talmente famosa che è stata mandata in giro in esposizione come se fosse un'opera originale e la copia in un certo senso è diventata assunto un valore proprio di testimone di un certo tipo di fare artigianato di usare nuove tecnologie come dimostrazione di attività da svolgere nel all'interno del patrimonio culturale chiamate la tutela chiamate la promozione quella delle copie ovviamente fare le copie è una cosa antica come il mondo io vi ho portato altri due esempi fra l'altro quando preparavo questa lezione pensavo che ce ne fosse una sola invece ho scoperto che in Messico di cappelle sistine ce n'è più d'una c'è questa a Reynosa che è una cappella sistina ricostruita integralmente con un milione e mezzo di fotografie digitali che sono state prese di notte nell'originale della cappella sistina e poi c'è anche un'altra cappella sistina a città del Messico che è fatta con pitture a tempera quindi praticamente diciamo in questo caso avete la ricostruzione di un ambiente originale a città del Messico come la cappella sistina che viene replicata in tutto il mondo perché sapete che ci sono culture nel mondo per esempio quella giapponese che non hanno il concetto che abbiamo noi tra copia e originale ma considerano le due copie e originale come allo stesso livello vi dicevo che appunto e ritorniamo al nostro David fare le copie eseguire le copie artigianalmente senza le nuove tecnologie come ha fatto Loh ma artigianalmente è una cosa vecchia di secoli e poi è scoppiata nell'Ottocento questo è un esempio del Victorian Albert Museum vedete le copie questa è la situazione sono foto di settembre avete tutte le copie fatte a mano da artigiani raffinatissimi con calchi che vi consentono di vedere tutti i capolavori della scultura rinascimentale anche della colonna traiana della colonna aureliana dentro le sale di un museo perché vi dico questo e perché vi ho fatto l'esempio di Loh e delle nuove tecnologie a cosa serve una copia e in questo caso allora cosa serve la nuova tecnologia se ci consente di avere un originale identico ha un ruolo importantissimo che è quello per esempio conservativo voi lo sapete che il David ha rischiato di frantumarsi in terra a metà dell'ottocento il David si piega così è fragilissimo è per quello che è stato ricoverato questa è una foto vedete del 1851 quando si accorsero che il David si stava stava franando in terra gli hanno messo il cappello poi presi dal panico l'hanno totalmente protetto con una casa e poi per più di vent'anni Piazza della Signoria è stata così senza David la copia è arrivata nel 1910 ma se voi mettete David su Google queste cose non ce le avete e soprattutto ci avete il David vero e il David finto tra virgolette al solito livello ci avete Van Gogh veri gioconde vere e gioconde finte questa è la copia che è stata fatta appunto nel 1910 e che oggi è tuttora di fronte al Palazzo Vecchio perché ovviamente non poteva rimanere così Piazza della Signoria dato che il David è un simbolo che venne portato appunto dentro la galleria dell'Accademia dove si trova tutt'oggi allora vi faccio un ultimo esempio e così poi mi avvio anche alla conclusione e magari alla discussione se volete farla questo è uno dei contesti sempre per restare al nostro 400 più rinomati più 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 importanti proprio per come si è conservato del 400 italiano è il Palazzo Ducale di Urbino che è del signore che abbiamo visto prima di Federico da Montefeltro oggi è diventato il Museo Nazionale delle Marche e infatti è anche perfettamente conservato diciamo all'interno è perfettamente conservato non so se siete mai stati andateci anche se è più difficile perché Urbino andarci con i mezzi pubblici è abbastanza difficile all'interno di questo palazzo c'è un particolare un ambiente che è straordinario e che è totalmente conservato e che è lo studiolo quello che si chiama lo studiolo di Federico da Montefeltro cioè all'interno di questo palazzo enorme come tanti dei signori dell'epoca Federico da Montefeltro aveva fatto una specie di stanzina una specie di cameretta per sé dove si richiudeva per studiare per meditare per osservare studiare i pezzi della sua collezione come le monete le piccole statuette la parte bassa è fatta con questi intagli di legno che vedete su disegno di botticelli dei martimi artisti del quattrocento italiano fatte con essenze pregiatissime con tarsie e linee elaborate originali vedete qui alcuni dettagli che indulgono sul problema della prospettiva e richiamano le arti la parte alta invece è una serie di ritratti di sapienti antichi Aristotele Platone oppure moderni c'è Petrarca per esempio c'è il cardinale Bessarione cioè uomini del suo tempo se ci fate caso qualcuno in bianco e nero perché anche qui Napoleone ci è passato e ha preso diversi diversi di questi ritratti qualche originale è rimasta a Urbino qualche ritratto invece è stato portato in Francia ora questo studiolo è famosissimo è conosciuto in tutto il mondo le persone vanno a Urbino a volte quasi per vedere Raffaello perché c'è la casa di Raffaello perché ci sono opere di Raffaello dentro il palazzo ducale di Urbino ma ci vanno perché c'è questo studiolo ma Federico di Montefettro aveva fatti due di studioli due anche un altro ce n'era era vicino nell'altro possedimento di Federico da Montefettro che è Gubbio che è questa piccola città Umbra che oggi è possibile visitare solo che questo studiolo oggi è a New York al Metropolitan se voi andate sul sito del Metropolitan Museum di New York che è uno dei siti museali più fatti meglio del mondo potete non solo vedere questa immagine che è lo studiolo di Federico da Montefettro ma c'è anche un film che vi fa girare intorno al Metropolitan di New York voi ci potete entrare dentro perché loro ovviamente l'hanno rimontato come era lo studiolo di Gubbio e voi mi direte vabbè ma è che ci è finito come a volte succede al patrimonio culturale italiano perché alla fine dell'Ottocento fu tolto da Gubbio e portato in una collezione romana questo collezionista romano poi ha deciso di venderlo sul mercato antiquario a un collezionista americano il collezionista americano se l'è portato in America e quindi l'ha messo in esplorazione la Metropolitan di New York e anche questo diciamo anche se meno importante dell'altro di Urbino è comunque di altissimo livello e allora che si fa? Lo scaso è lo stesso del veronese lo studiolo che avete a Gubbio è perfetto solo che manca l'arredo di legno ce lo potete proiettare ce lo potete potete usare appunto uno scanner per rifarcelo per rifarcelo finto in questo caso però non è un dipinto è legno come quelle spalliere che vedete lì e quindi è molto più difficile da riprodurre in questo caso si sta parlando sempre degli anni 2000 non sono state usate nuove tecnologie è stata fatta una scelta precisa cioè quella di chiamare degli artigiani perugini a fare la copia dello studiolo usando addirittura le stesse essenze linee gli stessi legni che per analisi chimica siamo riusciti a capire esistevano nello studiolo di Gubbio e con una spesa che ha sorpassato un milione di euro finanziato dalla banca di Perugia vedete qui il ministro Bondi ha inaugurato nel 2009 lo studiolo di Federico da Montefeltro a Gubbio una copia si poteva fare tutto si poteva fare uno scanner laser un film una ricostruzione 3D una fantasia quel che vi pare è stato scelto invece di fare un'opera che è stata portata in mostra a Tokyo come espressione del made in Italy come espressione di artigianato quindi è stata fatta una scelta non di usare in questo caso le nuove tecnologie ma di insistere sul saper fare degli artigiani per creare esattamente lo studiolo di Federico da Montefeltro che ormai è al Metropolitan di New York e non poteva più tornare indietro questo ha fatto sì che attraverso anche tutta una serie di installazioni lo studiolo di Gubbio è oggi visitato da numerose persone perché si va a visitare la capacità artigiana degli artisti perugini che hanno rifatto lo studiolo tale e quale allora io finisco con una con una cosa che è successa recentemente al museo di Amsterdam al Rix Museum uno dei musei europei più famosi il museo principale dell'Olanda che contiene forse turisticamente più famoso quello di Van Gogh ma questo è quello diciamo sono gli uffizi di Amsterdam il direttore sto parlando di una cosa che è successa sei mesi fa il direttore ha deciso di dare un'app ai visitatori cioè voi entrate col tablet e con il cellulare e avete quest'app che praticamente sul cellulare voi avete tutte le informazioni possibili immaginabili delle opere che è andata a vedere dimensioni commissioni sfortuna critica storia collezionistica chi la dipinte chi la usate chi la fate chi non la fate tutto quello che vi pare quindi i visitatori entravano dentro dentro il museo e a un certo punto però il direttore del museo del Rix Museum ha fatto un giro nelle sale e si è accorto che aveva i suoi visitatori così l'effetto ovviamente era quello che discordi l'opera d'arte che hai davanti e controlli o quantomeno fai un movimento di questo tipo sul cellulare per reperire informazioni allora sapete che ha fatto? ha lanciato questa campagna ha tolto le app le app se uno se vuole informazioni si le cerca sul sito da casa e ha invitato a disegnare cioè ha fornito un lapis e un blocco ai visitatori che erano interessati e li ha invitati a guadagnare attenzione lavorando direttamente con il lapis e la carta cioè ha ribaltato la prospettiva e ha rinvitato a fare un lavoro di attenzione di apprezzamento dell'originale che un processo di scrittura di disegno fatta con l'appunto è totalmente diverso rispetto a quello che voi fate con il cellulare perché vi faccio questo esempio perché guardate io ho la fedina penale pulita perché sono in centomila progetti di nuove tecnologie ma invece è importantissimo e sono particolarmente per me è un onore fare una lezione di questo tipo perché è un problema che stiamo vivendo noi e voi in particolare che si sta vivendo oggi che l'utilizzo delle nuove tecnologie comporta una distrazione sempre più forte rispetto agli originali e mentre la lettura di un libro a video ovviamente è diversa dalla lettura cartacea ma non non inficia il processo di lettura la lettura come ho cercato di dimostrarvi di certe opere d'arte in un determinato contesto se fatte in un certo modo con nuove tecnologie è sbagliata è sbagliata è fuorviante pericolosamente vi fa scordare l'originale quello che è e il messaggio che vuole mandare quindi benvengano tutte le tutte le possibilità che noi abbiamo e che ci vengono fornite dalle nuove tecnologie però siamo oggi nel 2019 di fronte a un bivio chiarissimo dobbiamo cominciare a governare le nuove tecnologie le possibilità offerte delle nuove tecnologie senza che queste mangino gli originali e il nostro modo di vivere con gli originali perché altrimenti rischiamo che tutto questo patrimonio che noi siamo chiamati a conservare ma soprattutto che siamo chiamati a capire rimanga inespresso venga frainteso e non venga diciamo così adeguatamente conservato e mandato alle generazioni successive perché il caso di Adam Love della copia del veronese dentro Santa Maria Maggiore San Giorgio Maggiore di Venezia vi dimostra che è possibile fare un uso delle nuove tecnologie che aggiunga sapere che aggiunga nuove possibilità il caso dello stesso periodo di rifare chiamare tre artigiani a rifare con le mani lo studiolo di Gubbio è sulla stessa linea se voi leggete gli ultimi documenti della comunità europea tutti tutti fanno attenzione al problema della manualità che si sta perdendo al problema del saper fare al problema di toccare gli originali di capirli di interpretarli in un modo che non sia soltanto digitale e con questo sgambetto io avrei anche concluso grazie grazie io mi aspetterei delle domande anzi dei commenti c'è il microfono quindi lo so è difficile ma insomma pensate che se fate le domande non tornate in classe perché sono 11 e 20 c'è una qui bravo lei ha detto che il minimo particolare cambia completamente la visione dell'originale in quale in quale modo cioè il motivo questa è una bellissima domanda avete sentito come mai l'originale cambia la visione del dettaglio cambia l'originale questa è una bellissima domanda e la risposta è che l'occhio della venere del botticelli non è grosso così botticelli se voleva fare un occhio grosso così lo faceva quando voi vi trovate davanti alla venere del botticelli l'occhio è piccolo e non lo potete vedere da vicino quindi lo cambia perché mentre voi vedete questo grande dettaglio quando vi trovate di fronte all'originale cercate quel dettaglio che non lo potrete mai vedere così non lo potrete mai vedere così non solo perché non vi fanno avvicinare ma poi perché l'occhio rimane piccolo nella fattispecie questa ragazza del kazakhistan che vi dicevo prima era rimasta impressionata perché aveva visto nell'annunciazione di Leonardo dei dettagli delle piante effettivamente sono importanti e per gli studiosi sono importanti ma quando è arrivata davanti parte il fatto che non si poteva avvicinare le piantine erano piccole quindi la domanda è giusta perché il dettaglio è sovradimensionato sovraesposto è una visione che l'artista non ha mai pensato anzi molto spesso gli artisti pensano la dimensione delle immagini perché tipo l'opera è pensata a un altare gli altari che vedete gli artisti non è che le facevano a caso si facevano dare le dimensioni le misure misuravano il fatto che ci fossero le candele davanti la luce la distanza di chi pregava conseguentemente è suggestivo vederle da vicino ma non è quella la visione che viene chiamata è per quello che la falsa cioè la rende diversa da una fruizione che poi è quella vera perché la venere del Botticelli vi ho detto abbiamo questo documento che ci dice che era fatta per stare sopra al lettuccio cioè sopra al divano fate conto una spalliera di questo tipo quindi qua sopra nessuno la vedeva da vicino e l'occhio rimane piccolino l'occhio della venere del Botticelli è così non so se ho risposto poi naturalmente le cose si complicano ma insomma è questo come il discorso per Caravaggio naturalmente lo potete vedere un originale ingrandito chi studia serve per vedere la pennellata serve per vedere se c'è un restauro ma non è mai quello che vedete quando voi andate agli uffizi e poi provate provate avete visto le immagini che vi ho fatto vedere degli uffizi experience le opere sono illuminate fanno luce ma avete mai visto un quadro che fa luce al buio voi siete al buio in un museo non sarete mai al buio i quadri non sono fatti per essere visti al buio anzi avevano delle illuminazioni particolari e per quello che la visione dal vero è completamente diversa e prima non si poteva avere dei dettagli così grandi era impossibile soltanto con le tecnologie oggi è possibile ce n'è un altro laggiù grazie perché lei ha ragione soltanto che forse è cambiata la funzione dell'arte nel senso che la venere che stava sopra il lettuccio era solo per uno invece oggi se c'è una cosa positiva di questo modo di diffondere le opere d'arte ora senza arrivare agli stravolgimenti della tecnologia io penso alle grandi mostre che quando io ero ragazzina non esistevano assolutamente invece ora c'è tutto un po' di battaggio pubblicitario sulla mostra qui perché c'è tutta un'affluenza che non so ora da periodizzarla però prima non esisteva allora io sono d'accordo con lei sullo stravolgimento della visione dell'opera però si può anche pensare che vivendo in una società di massa anche l'arte deve diventare pop non lo so è un modo per è comunque un modo per renderla fruibile si potrebbe dire anche agli ignoranti anche a chi se no non ci andrebbe mai allora io non lo so io credo che questo assolutamente va anche un po' messo va anche un po' sottolineato assolutamente sì assolutamente d'accordo e soprattutto il fatto che pensate a chi non potrà mai visitare gli uffizi perché non può perché non si può spostare se li può vedere tutti questo non ci piove infatti l'esempio che ho fatto per esempio del San Giorgio Maggiore è questo l'esempio del Caravaggio che ha ricostruito la cappella è assolutamente questo quello che dicevo invece è che appunto bisogna trovare il giusto mezzo cioè far sì che le persone tutti possano vedere gli uffizi ma facendo attenzione che poi l'originale è in un certo modo quindi permettere che vada visto ma magari dare informazioni per esempio il pollaiolo far vedere che è piccolo dire che è piccolo mostrarlo prima come piccolo e poi permettere di allargarlo farlo vedere in dimensione originale ci sono tanti modi che appunto una nuova tecnologia può fare detto questo è chiaro che è tutto un accrescimento di cultura la ragazza cinese che vi dicevo all'inizio non mi avrebbe mai potuto fare una simile domanda al David se non avesse avuto internet quindi su questo assolutamente anzi benvengano non sono assolutamente contro a questo anzi è proprio quello che vi volevo dire io e che faccio bisogna bisogna è nostro dovere non farsi sorpassare a destra ma gestire nel modo corretto quello che la nuova tecnologia riesce a dare in questo versante vedrete che i miei colleghi negli incontri successivi saranno sulla medesima linea bravi grazie fatemi non sgambetti domande io ho una domanda più semplice lei ha esposto molti problemi rispetto alle nuove tecnologie ma c'è una soluzione o delle protesi non è affatto una domanda semplice anche questa è una bellissima domanda non esiste una soluzione perché giustamente come diceva l'insegnante prima la società è cambiata e cambia il nostro modo di vedere le opere d'arte non esiste una soluzione esistono dei modi dei modi per gestire e venire incontro a certi bisogni vi posso dire che un certo modo di usare le tecnologie è sbagliato rispetto al modo scientifico di considerare un'opera d'arte quindi è dovere di chi lavora in questo ambito di prevenire certe diciamo falsi allo stesso tempo non è che c'è una soluzione io vi ribadisco che per questo ringrazio per questa domanda perché ribadisco che i milioni di euro che sono stati spesi per uno scanner sofisticatissimo a fare il veronese sono i milioni di euro che sono stati spesi per tre banisti di Perugia in un caso hanno fatto lavorare tre artigiani e attenzione hanno mandato lo studoleo a Tokyo a Tokyo come espressione del made in Italy è un'operazione commerciale è lo stesso che è stato fatto per è un problema che riguarda originale e copia in tutti e due modi e che è venuto incontro alla fruizione delle persone perché ha restituito ma se voi andavate a Gubbio dieci anni fa c'era una stanza vuota dove c'è lo studio al Metropolitan c'era una stanza vuota il refettorio di San Giorgio Maggiore è una stanza vuota in questo mondo è stata recuperata la fruizione delle persone in due modi diversi quindi la soluzione soluzione non c'è ci sono idee idee quello sì buongiorno a tutti allora mi hanno fatto notare una domanda che secondo me ha senso cioè che senso ha andare in un museo a vedere opere che magari sono state decontestualizzate dal luogo originario quindi per esempio un'opera che è stata fatta per stare in chiesa quando poi in realtà me la metto in un museo questa ha senso andarla a vedere ah grazie sì allora questa è la domanda delle cento pistole il David è stato portato in un museo perché se no cascava in terra le opere non è che vengono portate nel museo così a fantasia le opere vengono portate nel museo perché a volte è necessario voi considerate che recentemente è stato musealizzato mezzo patrimonio esterno di Firenze voi ora gli originali delle porte del Battistero che sono tra i capolavori assoluti dell'arte dell'Occidente sono dentro il museo dell'opera del Duomo non sono più le porte del Battistero sono copie il Marco Aurelio a Roma ma perché si rovinavano all'aperto quindi le opere vengono portate nei musei non per una scelta naturalmente la domanda è giusta perché chiaramente portandone nel museo vengono decontestualizzate però a volte oggi si va nei musei anche soltanto per vedere il museo questo è il famoso Louvre di Abu Dhabi che è aperto l'anno scorso museo nato vuoto solo il museo naturalmente poi ci hanno messo le opere ma dopo quindi se la domanda ha senso ha un senso diverso e naturalmente conferma quello che dicevo io naturalmente in un museo lo vedete in maniera completamente diversa rispetto che è un contesto originale questo è fuori di dubbio in questo senso le nuove tecnologie possono aiutare a ricostruire il contesto originale in questo senso l'archeologia ha fatto passi da gigante perché ci sono tante ambientazioni che vengono ricostruite che vi danno l'idea di come era un certo ambiente a livello spaziale e questo è un grosso acquisto delle scienze moderne sembra ce n'era una la no altre ho visto un'altra mano c'era un'altra lì ok ho una domanda per lei perché ha scelto proprio l'ambito dell'arte come portare esempio ecco cioè perché ha preso proprio come per per prendere questo dibattito perché ha scelto proprio l'arte non so se mi spiego bene cioè e perché non l'archeologia o io sono uno storico dell'arte nel senso su altri ambiti non non avrei saputo lavorare cioè la domanda è nel senso l'arte diciamo ha il senso di questa lezione perché l'arte è stata scelta perché l'originale è qualcosa che nel mondo del patrimonio culturale è ineludibile cioè l'originale è l'originale è uno e ha una sua una sua struttura che oggi viene moltiplicata in centinaia di milioni di immagini ma ha una sua unicità è un'opera sola quindi per questo mi è servito per mostrare che quello che succede rispetto al a un certo tipo di uso delle nuove tecnologie a un certo tipo di uso delle immagini poi naturalmente queste sono domande ricordatevi sempre che specialmente nelle scienze umane gli umanisti come noi non c'è la risposta è proprio il bello del nostro tipo di fare ricerca noi ci siamo immersi tutti i giorni non c'è il sì e il no è la soluzione ci sono problemi complessi a cui siamo chiamati a tentare di dare una risposta che ovviamente cambia negli anni questo è la ricerca scientifica è così di qualsiasi tipo cambia cambiano le domande cambia il modo di porsi i problemi cambiano le risposte ma non c'è un sì no è la soluzione chiaramente se qualcuno se voi diventate responsabili del museo del Louvre e qualcuno vi dice guardate che quell'opera lì sta deperendo si sta distruggendo fate tutto il possibile per salvarla ma poi per il resto sono scelte appunto di politica culturale questa scelta qui ragazzi che io vi ho portato perché proprio anche per farvi vedere quello che succede nel mondo contemporaneo ora ma badate che è una scelta rivoluzionaria ma chi l'avrebbe mai detto dieci anni fa che un direttore di un museo toglieva l'app sembrava dieci anni fa che l'app fossero l'app dentro un museo che a un certo punto ci siamo accorti che se te visitatore hai 874 milioni di informazioni sul cellulare e sei in una visita che comunque anche per resistenza fisica non puoi fare per più di due ore tre ore e le opere le devi vedere anche il dialogo tra spostamento dello sguardo tra lo schermo lettura delle informazioni sullo schermo visione dell'originale la carovana dei giapponesi che vi passa le guide che vi chiudono e sono problemi veri chi l'avrebbe mai detto che un direttore di uno dei musei più importanti del mondo avrebbe messo un lapis e un tacquino in mano ai visitatori invece che un tablet non è che è una rivoluzione al contrario è un modo per interrogarsi sui problemi della visita questo il Rix Museum non lo so farà tipo un milione di visitatori l'anno è quello dove ci trovate Rembrandt ci trovate Vermeer ci trovate Frantz ci trovate i massimi artisti dell'Olanda olandesi beh comunque il mio obiettivo era quello di farvi riflettere su questi temi poi ognuno di voi secondo me poi deve pensarci per conto proprio andate pure a vedere questi siti così vi rendete conto di come sono di come sono fatti di come di come lavorano poi magari andate a vedere gli originali e vedete quello che succede altre domande? sono belle domande queste quelle che sembrano più semplici sono più difficili c'è una soluzione o no? no non c'è una soluzione c'è un problema un problema che ha tante soluzioni possibili c'è una lì direttore ho una domanda per lei ci sono brand di abbigliamento che ultimamente va di moda mettere quadri nel in fronte o cioè davanti o dietro il capo secondo lei è giusto o è una una mancanza di rispetto e non si dovrebbe fare cose del genere grazie allora a settembre no quando era ottobre ho 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 cenato con la direttrice della galleria dell'accademia di Firenze che mi ha detto che un giorno passava in bicicletta e ha visto il David con le scarpe da ginnastica cioè quindi il David David con le scarpe da ginnastica quindi in un brand che abbiamo usato naturalmente finora nessuno aveva mai fatto nulla lei per la prima volta si è mossa con una sentenza del Consiglio di Stato che gli ha dato ragione e questa questo ditta di in questo caso era una ditta di scarpe ha dovuto pagare tipo 40.000 euro come diritti per uso dell'immagine del David io non credo che sia giusto sbagliato naturalmente penso che ci siano degli usi sconvenienti ma questo dipende poi forse anche dal gusto delle persone non credo assolutamente che sia sbagliato anzi credo che sia un modo pop e giusto di usare anche i capolavori dell'arte credo che però si debbano pagare i diritti come se io devo pagare i diritti per usare l'immagine di Cristiano Ronaldo penso che debba usare pagare i diritti per usare l'immagine del David Magari è una domanda stupida però non esistono domande stupide questo è quello che io dico sempre non esistono domande stupide se nella storia dell'arte cioè moltissime correnti si sono basate sul riprendere l'arte del passato e stravolgerla perché questo dovrebbe essere diverso cioè non so se mi sono spiegata no perché infatti appunto si può tranquillamente anzi si può stravolgere non ho detto il contrario in che senso cioè rispetto a a vederla in maniera diversa sì sì in questo caso però non è un artista cioè ci sono gli artisti che lo fanno in questo caso invece è una diciamo sono operatori del settore che rendono possibile questo questo stravolgimento non è un art non sono gli artisti che lo fanno questo è importante non è che l'occhio grande della 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 del Botticelli è un'opera d'arte di un artista ci sono tanti artisti che hanno stravolto opere del passato anche ora anche con le nuove tecnologie in questo caso invece è qualcosa che è fatto da potete farlo anche voi tranquillamente potete anche voi fare un sito se avete soldi per pagare i diritti delle opere potete fare un sito per esempio con i dettagli giganteschi delle delle pievi di Lucca perché no assolutamente si può fare appunto si può fare tutto resta poi che voi rimaniate piantati ogni volta piantati con piedi per terra della filologia cioè del capire la storia di un oggetto come è fatto questo oggetto e poi dopo una volta capito l'oggetto il contesto e dov'è partire con tutto quello che vi viene messa a disposizione dalle nuove tecnologie o dalle vecchie tecnologie salve io avrei una domanda per lei ha detto che le arti quelle originali nei musei vengono modificate sul virtuale c'è che le fa grandi ma c'è anche dei siti dove ti dicano com'era l'originale cioè com'è l'arte originale di l'altezza e com'è strutturata nei musei ecco questa per esempio potrebbe essere un'idea geniale cambiamo la prospettiva facciamo un sito in cui si documenta com'è invece che far vedere una cosa facciamo un sito in cui si documenta quelle foto che vi ho fatto vedere io in cui è la situazione dell'opera in quel momento in che contesto è come si trova ora e magari sì ci sono anche siti che ti fanno vedere come era l'opera nel contesto originale specialmente vi ripeto l'archeologia tutti conoscete forse ricostruzioni del Colosseo io all'apertura scherzavo con Assassin's Creed ma Assassin's Creed è venuto qua la persona che ci ha lavorato che si chiama Marcello Simonetta che è uno storico del Rinascimento sapete c'è un lavoro grossissimo dietro di storici per la ricostruzione di Firenze e di Venezia nel 400 sono ricostruzioni non proprio filologicamente proprio perfette ma che hanno dietro il lavoro di esperti quindi ci sono i siti che ti permettono di vedere il contesto originale certo è più difficile per esempio sono stati fatti studi per sapere la luce delle candele di fronte ai dipinti di Caravaggio cioè si è cercato di capire quanto veniva pagato in cera per accendere per capire come fosse stata l'illuminazione con determinati momenti del giorno però è difficilissimo ricostruire il contesto originale però si può fare e si può fare anche rispetto al museo per esempio perché no far vedere com'è la situazione della Venere del Botticelli martedì mattina mercoledì pomeriggio sabato pomeriggio ad aprile a gennaio a dicembre questo sarebbe un altro interessante esperimento scusa io volevo chiedere io non ho capito al museo di Amsterdam secondo me non ha senso dare i fogli e togliere il tablet perché col tablet secondo me ha fatto una grande cavolata se io fossi un turista non ci andrei mai infatti il tablet non è stato tolto uno il tablet se lo può portare il tablet non è stato tolto è stata tolta la app ma uno ha il tablet va e poi col tablet ormai c'è il wifi gratuito se tu vuoi vedere le informazioni su questo dove è se rimettete l'opera se uno vuoi vedere le informazioni su quel dipinto lì di Venix lo può fare tranquillamente non è un obbligo non è un obbligo però bisogna anche capire come mai l'ha fatto perché se tu sei responsabile di un museo e ti accorgi che nessuno guarda più le tue opere beh allora una domanda te la fai comunque nessuno è obbligato assolutamente e questa è una domanda giusta nel senso che poi le cose ragazzi bisogna anche averci un po' di ragionevolezza cioè se uno usa una Ferrari nuove tecnologie nuove tecnologie ma lo sapete quante volte mi sono trovato io in commissioni di persone che volevano spendere centinaia di migliaia di euro di soldi nostri per usare nuove tecnologie nei musei quando perfettamente si sapeva che dopo un anno sarebbe stato tutto messo da parte perché sarebbero stato superate da qualcosa molto più veloce nessuno vuol guardare indietro ma bisogna guardare al futuro al famoso internet delle cose con intelligenza e oggi si può fare proprio per questa consapevolezza che stiamo maturando c'è una domanda laggiù in fondo due siete bravissimi poi fate domande difficili io poi non lo so alzo le mani perché allora lei prima ha difeso la decontestualizzazione dell'arte per necessità di preservarla quindi nei musei sì ed è giusto ma perché invece contestare la stessa decontestualizzazione per un'altra necessità che è quella di appunto raggiungere tutti e non rendere l'arte elitaria cioè perché difendere la stessa azione in un caso ma non nell'altro in che senso quali esempi se no non capisco nel senso lei ha detto che è giusto che l'arte venga decontestualizzata quindi venendo portata nei musei sì ma che invece diciamo da quello che ho capito da quello che ha lasciato intendere non è giusto invece andarla a cercare su google cioè quindi appunto essere accessibile a tutti no 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 questo voglio essere chiaro assolutamente quello che vi ho voglio dire io che su google non ci trovate quello vero su google benissimo che ci sia ma quello che vi ho fatto se voi scusate ma questa pagina qui ma non è la gioconda questa eh questo è un miliardo di gioconde tra cui vi ripeto ci può essere la copia che viene venduta su ebay a 1500 euro io sono d'accordissimo che tutti possono avere accesso a google a tutte le opere d'arte del mondo ci mancherebbe altro ma sono il primo io sono il primo io a lamentarmi quando non trovo le immagini quando devo non mi mancano le immagini il problema è l'originale l'originale è un'altra cosa sarebbe interessante fare una discussione con un professore di letteratura anche il libro lo trovate su internet ma è quello mentre invece la gioconda la venere di botticelli che trovate su internet non è quella e la guardate sullo schermo in maniera completamente diversa rispetto all'originale questo vi voglio dire io quindi va benissimo vi aiuta potete vedere l'occhio della venere con le pennellate vi aiuta tantissimo ma poi dovete andare a vederla davvero perché è un'altra cosa sì ma anche il david che è davanti a palazzo vecchio è una copia cioè è al pari di quello che trovi su internet quindi alla fine anche quello dovrebbe essere contestato ma nessuno lo contesta attenzione nessuno lo contesta il davide poi bisogna fare attenzione perché il davide è stato vent'anni piazza della signoria senza david ci è stato rimesso perché mancava un elemento dell'arredo architettonico della piazza nessuno lo contesta quelle che il battistero di Firenze ora le porte sono copie il Marco Aurelio che c'è a Roma sono copie l'originale è stato portato dentro il museo nessuno lo contesta solo che una copia è un conto un'immagine è un'altra non è una contestazione di valore assolutamente è il rapporto tra immagine e opera vera che sta cambiando io forse da quello che ho capito non capisco perché noi dobbiamo andare a parlare delle nuove tecnologie come magari anche maligne in questo campo mentre quando il problema forse il problema principale è l'utenza che va a sostituire l'arte con questa nuova tecnologia il problema per me in sé per sé non è la nuova tecnologia che magari mette su un social su un sito un'immagine ma tutte quelle persone che preferiscono guardare quell'immagine piuttosto che un dipinto o una scultura dal vivo bravo penso che questo sia un modo per centrare il problema io non sono appunto contro chi le guarda ma dico che è nella responsabilità di chi gestisce queste cose di spiegare che un certo tipo di immagine si mette in un certo tipo di rapporto con l'originale altrimenti succede che voi quando andate in un museo ci rimanete male perché va annoiate oltre al fatto che va annoiate forse a cose normali ma non ci trovate quelle cose splendenti lucenti grandi che vedete in un altro modo e che 15 anni fa non era possibile vedere tutto qui quindi è assolutamente il problema centrato è il modo è l'utenza è il modo con cui si gestiscono queste cose forse è proprio questa la chiave una delle chiavi per rispondere al problema che si lega alla domanda del tuo compagno che diceva chi è che mi fa vedere il contesto queste sono le idee di cui abbiamo bisogno che vi dicevo prima riflettere su questi temi è proprio questa la strada capire si può fare così si può fare in questo modo e poi abbiamo un certo risultato ma anche questa cosa del deludere magari lo spettatore io sono dell'idea che se te guardi una copia o una semplice immagine anche ingrandita quanto ti pare su internet non sarà mai la stessa cosa di andare a vedere l'opera reale perché cioè te parti con l'idea che quella è una copia e non è irreale mentre quando te vai a vedere la vera opera già nella tua testa si creano altre mille cose cioè proprio l'idea che te sei davanti a una cosa toccata con mano dall'artista esatto non credo che possa poi lasciare a deludere certo eppure eppure fai conto che la cosa più importante forse che è che siamo veramente nella globalizzazione cioè che ci sono persone di cultura profondamente diversa dalla nostra che accedono alle opere appunto pensando che il Davide è una persona che va a fare la doccia quindi c'è una fruizione globale è lo stesso che noi abbiamo per le immagini cinesi o africane cioè noi non sappiamo abbiamo una percezione con l'immagine ogni civiltà ce l'ha in maniera diversa sì va bene allora l'ultima domanda perché poi bisogna accludere vi ringrazio tantissimo c'era l'ultima domanda? no va bene allora ho detto che bisogna chiudere vi ringrazio tanto siete stati bravissimi grazie